Cosa c'è, Man-Man? Ecco io. Avrei un desiderio. Zintan! Ascoltami bene, Stress. Quando sono con te, le cose brutte, quelle più brutte, mi tornano in mente. Quella che dovrebbe vergognarsi sono io. Ti iscrivi a un pessimo liceo qui nei paraggi. Non lo frequenti nemmeno e vai in giro a parlare di Meiko Onma. Non è che ti ha dato di volta il cervello? Appena ha tirato fuori Meiko Onma, sei cambiato di colpo. Alla fine sei come lui. Quel giorno il tempo si era fermato. Ora è ripreso a scorrere.